Salve a tutti e tutti, eccoci ad una lezione di filosofia in cui andremo a leggere dei brani della lettera settima di Platone. Questo video vuole essere una guida alla lettura di questo importante testo della filosofia antica e della filosofia occidentale nel suo complesso. Devo dire che per alcuni decenni c'è stato chi ha sostenuto che la lettera settima così come altre delle tredici lettere contenute nel testo platonico fosse spuria, non fosse autentica. Oggi per fortuna chi sostiene questa posizione si è fatto in disparte e soprattutto siamo addivenuti alla consapevolezza che l'onere della prova spetta a chi ritiene che la lettera sia spuria. Dunque tendiamo a considerare questa lettera autentica poiché non ci sono motivi rilevanti per i quali dovremmo pensare che questa lettera non lo sia e anzi una lettura approfondita di questo testo che è quanto mi prometto di fare e mi riprometto di fare in questo video ci permette di comprendere al meglio la filosofia di Platone nel suo complesso. Perché è così importante questa lettera? Innanzitutto per la prima volta Platone interviene parlando di sé in prima persona. Noi sappiamo che abbiamo tante opere di Platone, in particolar modo abbiamo 34 dialoghi, un'apologia e poi questo corpus di lettere nel numero di 13 di cui questa è la settima. Ebbene nei 34 dialoghi e nell'apologia Platone non compare mai come personaggio parlante. Platone si cita soltanto tre volte, una delle quali per sostenere che era assente. Dunque noi non abbiamo mai sentito direttamente la voce di Platone e invece in questo contesto, in questa lettera, abbiamo finalmente la possibilità di sentire un Platone anziano che guarda il proprio passato e dà una propria lettura, chiaro, a volo d'uccello della propria lunga vita. Dai riferimenti interni al testo possiamo dire che Platone deve aver scritto questa lettera quando aveva circa 73 o 74 anni, quindi un Platone piuttosto maturo che aveva fatto molte esperienze nel mondo e che ormai poteva cominciare a fare un bilancio della propria esistenza. Un bilancio, qual è la lettera settima, che è anche severo con sé perché va a prendersi la responsabilità morale degli atti di un'altra persona che è Dione. Allora per comprendere meglio questo testo secondo me conviene innanzitutto andare a dare delle informazioni di carattere biografico così da poter comprendere al meglio ciò di cui stiamo parlando. Noi sappiamo che Platone nasce ad Atene e rimane ad Atene fin quando ha 28 anni. nasce tra l'altro nel 428 e quindi si vive da bambino la parte, cioè propriamente la guerra del Peloponneso che era scoppiata nel 431. Dopodiché entra in un rapporto di amicizia con Socrate che sarà la sua guida, il suo maestro, non un precettore a pagamento ma comunque una figura di riferimento, abbandona lo studio della poesia e si dedica alla propria formazione con l'intento di dedicarsi alla vita politica. Ma la vita politica atenese è funestata da una serie di avvenimenti che sono conseguenza della tremenda sconfitta subita da Atene durante la guerra del Peloponneso. Come sappiamo infatti alla fine della guerra del Peloponneso Atene sconfitta da Sparta è costritta ad abbattere le grandi mura, ad abbattere l'impero ma soprattutto ad abbattere la democrazia. E così viene fondato il governo, viene istituito il governo dei Trentatiranni, dei governanti filospartani, aristocratici e oligarchici a capo dei quali c'è Crizia che nella fattispecie è anche lo zio della mamma di Platone, quindi è un suo parente stretto e fra i Trentatiranni c'è anche Carmide che è un suo congiunto. Platone in un primo tempo dunque si aspettava grandi cose da questo governo oligarchico e filo spartano che comunque si imponeva ad Atene che era stata messa in ginocchio dalla sconfitta sofferta durante la guerra del Peloponneso. Sconfitta che era derivata anche e soprattutto dall'incapacità dei capi democratici di gestire la guerra, almeno dal punto di vista di Platone e della sua famiglia. Però Platone osserva che cosa facessero questi capi oligarchici. Un Platone giovane è fidente, ha proprio speranza che questi capi siano in grado di riportare Atene ai fasti del passato. La storia però si incarica di smentirlo e così tra l'altro avviene un colpo di Stato democratico guidato tra Sibulo e Anito. Anito tra l'altro sarà l'accusatore di Socrate e a seguito di questo colpo di Stato Crizia viene ucciso e viene ripristinato un governo democratico che all'inizio sembra abbastanza moderato ma poi si macchia di un crimine tremendo cioè processa e poi condanna a morte Socrate che secondo Platone era l'uomo più giusto di tutti, l'uomo più giusto che Atene avesse mai avuto. A questo punto Platone abbandona Atene, va via sia perché non aveva più nessuna speranza di poter dedicarsi alla vita politica ateniese, non aveva amici, non si fidava ovviamente dei democratici, rimaneva di impostazione aristocratica ma non condivideva gli aristocratici del tempo che comunque ormai erano tornati ad essere marginali nella vita politica ateniese e viaggia per diversi anni. Questa è la parte della vita di Platone di cui abbiamo meno notizie. Comunque probabilmente fu a Megara, fu in Egitto, sicuramente fu ospite di Archita a Taranto. Archita è un personaggio fondamentale nella vita di Platone, era uno studioso di matematica e filosofia, di impostazione pitagorica ma anche un uomo politico tarantino, anzi è proprio a Taranto che Platone per la prima volta può vedere dal vivo che cosa di bello accada ad una città quando i filosofi si fanno re o i re si fanno filosofi. Non sappiamo se lì a Taranto o direttamente a Siracusa abbia conosciuto Dione, sicuramente Platone aveva in animo di recarsi in Sicilia per visitare l'Etna ora non sappiamo se quando giunse in Sicilia aveva già conosciuto Dione o se lo conobbe lì ma comunque l'incontro con Dione fu fondamentale nella vita di Platone perché nacque un rapporto fortissimo di amicizia e Platone divenne la guida, l'insegnante, la figura di riferimento per Dione e si aspettava di poter, attraverso Dione, poter mitigare la tirannide che vigeva a Siracusa devo specificare che Dione, anche se Platone ce lo presenta come una persona retta, morigerata, moderata era in rapporto di stretta parentela con i tiranni di Siracusa in particolar modo la prima volta che Platone si reca a Siracusa era tiranno il cognato e suocero di Dione quindi Dionigi il vecchio Dionigi il vecchio ebbe poi un figlio, Dionigi il giovane, del quale Dione sarà sia lo zio sia di nuovo il cognato per questa parentela mista che avevano Dione dunque sperava già di poter avvalersi dell'aiuto di Platone per convincere Dionigi il vecchio a mitigare la propria tirannide le cose non andarono secondo i piani Platone arrivò per la prima volta a Siracusa quando Platone stesso aveva 40 anni e Dione circa 20 i due tentarono di avviare Dionisio ad una formazione filosofica ma Dionisio era fondamentalmente impermeabile alla filosofia e tra l'altro non aveva in stima i filosofi a maggior ragione Platone che era anche di origine atenese ricordiamo che comunque Siracusa era stata la città oggetto della ripresa della guerra fra Sparta e Atene nella seconda fase della guerra del Peloponneso cioè era stata la meta della spedizione di Alcibiade per riprendere la guerra contro Sparta non sussistevano buoni rapporti diplomatici anche se Platone poi non era rappresentante politico della propria città però comunque Siracusa decide di tornare a casa decide di tornare finalmente ad Atene da cui mancava da oltre dieci anni qui pare che Dionisio gli avesse teso un tranello e quindi nel viaggio di ritorno verso Atene lo avesse fatto rapire perché fosse venduto come schiavo poi Platone sembra che avesse mandato dei messaggeri ad Atene affinché raccogliessero il denaro un uomo avendo saputo che c'era Platone lì tenuto come schiavo lo riscatta quando Platone cerca di restituirgli il denaro questo uomo rifiuta e allora Platone ha così i soldi necessari per poter fondare l'Accademia secondo me questa notizia non è autentica anche perché Platone come ho già detto ci ha lasciato ben 36 opere all'interno delle quali di questo fatto specifico non parla mai ma della schiavitù nel suo complesso parla una sola volta nelle leggi quindi nell'ultima opera ora gli fosse capitato un fatto così importante così determinante forse ci sarebbe un eco o una traccia all'interno degli scritti comunque è certo che Platone ritorna ad Atene è certo che lì ad Atene nei prezzi nel quartiere del ceramico nei prezzi del cimitero fonda la propria accademia la propria scuola è una scuola in cui si occupa della formazione dei propri discepoli affinché possano conoscere il giusto e se vogliono applicarlo quindi è una scuola che ha una funzione se vogliamo teorico-politica e anche l'istituzionalizzazione del metodo socratico rimane ad Atene per circa 20 anni quindi dai 40 ai 60 anni tutto il periodo della maturità in cui elabora le proprie teorie originali quindi quella che viene tramandata come teoria delle idee o teoria delle forme dopodiché viene chiamato per la seconda volta a Siracusa siamo nel 367 viene richiamato perché è morto Dionigi il vecchio e ha preso il potere e è diventato tiranno il figlio Dionisio il giovane e di nuovo Dione con il quale era rimasto un forte legame d'amicizia chiama Platone in aiuto perché i due possano convincere Dionisio a mitigare la propria dirannide e creare una città, fondare una città giusta governata in base a leggi eque le cose non vanno nemmeno questa volta come ci si era augurati ma in realtà questa volta le cose vanno male sia perché Dionisio il giovane riteneva egli stesso di essere un filosofo e addirittura inizia a scrivere dei trattati in cui mette per iscritto alcune teorie che dice di aver appreso da Platone e allo stesso tempo pochi mesi dopo l'arrivo di Platone Dione viene cacciato da Siracusa non è ancora un esule nel senso che non gli vengono confiscati i beni ma viene esortato a scegliere una residenza esterna rispetto a Siracusa evidentemente Dionisio mal consigliato da altri filosofi e da altri uomini di corte temeva che Dione volesse privarlo del potere tra l'altro entrambi sia Dionisio il vecchio sia Dionisio il giovane erano dei tiranni particolarmente circospetti e particolarmente timorosi di perdere il potere a questo punto Platone cerca sin da subito di mediare fra i due parenti quindi fra Dionisio e Dione ma scoppia una guerra esterna e quindi Platone è costretto a partire ma si lasciano con Dionisio con la promessa che finita la guerra Dione e Platone sarebbero tornati a Siracusa e con Dionisio avrebbero trovato una mediazione e si sarebbero riappacificati trascorrono altri sette anni Platone nel frattempo ne ha ben sessantasette quindi è una persona ormai anziana stanca e viene costretto cioè si sente costretto a partire per la terza e ultima volta verso Siracusa questa volta per riconciliare Dione e Dionisio ma in realtà lui sperava anche che in questo viaggio potesse avere finalmente l'occasione di convincere Dionisio a mitigare la propria tirannide tra l'altro molte persone anche Archita e i missari di Archita avevano fatto credere a Platone che Dionisio fosse ben disposto verso la filosofia e ben disposto ad accoglierlo come guida come insegnante quindi Platone si mette in viaggio questa volta porta con sé alcuni discepoli perché appunto ha bisogno d'aiuto in questa missione che va a compiere in particolar modo porta con sé il nipote Speusippo il figlio della sorella Potone e arrivano a Siracusa Dione invece non viene fatto rientrare e quindi Platone cerca di mediare con Dionisio per trovare una buona soluzione per Dione e la soluzione sembra che potesse essere vendere tutti i beni di Dione e consegnare a Platone i soldi Platone li avrebbe consegnati a Dione e così la situazione si sarebbe risolta in realtà Dionisio inganna Platone perché praticamente decide di vendere a prezzo vile tutti i beni di Dione e di trattenere una metà dei beni per darli al figlio di Dione e a Platone avrebbe consegnato soltanto la metà dei soldi dovuti ma poi non consegna nemmeno questa nel frattempo scoppia tra l'altro una rivolta dei veterani siracusani e questa è l'occasione che Dionisio trova per avere un vero e proprio contrasto con Platone questa almeno è la versione raccontata con gli occhi di Platone la diciamo è forse probabile che nel momento in cui Dione aveva compreso che non poteva più rientrare a Siracusa aveva già cominciato a organizzare un colpo di stato per cacciare Dionisio e quindi Dionisio in ogni modo voleva impedire a Dione di tornare questa è la verità il problema è che Platone a differenza dei propri seguaci non era a conoscenza degli intenti di Dione cioè non sapeva che Dione stava già organizzando un colpo di stato contro Dionisio a questo punto in un primo tempo Dionisio addirittura non vuole fare ripartire Platone lo vuole trattenere lì ad ogni costo anche questa volta anche la volta precedente le cose erano andate così insomma alla fine Platone comprende di essere in pericolo tra l'altro glielo dicono alcuni soldati siracusani anche alcuni schiavi di origine atenese ricordiamoci che la spedizione in Sicilia era stata persa dagli atenesi quindi c'erano diversi schiavi di origine atenese a Siracusa e a questo punto Platone manda a chiamare scrive ad Archita manda a chiamare l'amico Archita che nel frattempo era diventato stratego a Taranto di comunica che è in una condizione di grave pericolo e Archita allora manda l'amico che è un proprio diplomatico con una trireme l'amico interviene a un colloquio con Dionisio riesce a farsi consegnare Platone i suoi discepoli con la promessa che li avrebbe riportati ad Atene nel viaggio di ritorno verso Atene la compagnia si ferma a Olimpia dove era presente Dione o perché aveva trovato dimora lì o perché stava assistendo ai giochi olimpici comunque quando si incontrano i due erano in corso i giochi olimpici e lì avviene l'ultimo incontro fra Platone e Dione in cui Dione manifesta a Platone l'intenzione di muovere guerra contro Dionisio e Platone declina l'invito che Dione gli aveva fatto ad andare in guerra con lui dopodiché non ci sono più rapporti fra i due però c'è molta reticenza anche in questa lettera di Platone come andremo a vedere adesso che la leggiamo ne leggiamo alcuni alcuni brani quindi Platone rientra all'accademia porta avanti la propria vita vivrà altri 12 anni nel frattempo Dione torna a Siracusa scatena questa guerra civile con la quale caccia Dionigi il giovane si pone a capo della città chiama alcuni diplomatici da Corinto perché lo aiutino a scrivere una costituzione adeguata una buona costituzione e faccio notare non chiama né Platone né membri dell'accademia e io credo che questo sia chiaramente conseguente al fatto che ad Olimpia i due avevano rotto la propria amicizia anche se non si era esaurito l'affetto fra i due anche questo esperimento comunque dura poco perché c'è un nuovo colpo di stato organizzato da due ateniesi a seguito dei quali Dione viene ucciso quindi Dione muore e è in questa fase che i familiari di Dione scrivono a Platone chiedendogli aiuto e consigli e la lettera settima è la risposta a questi amici e familiari di Dione che chiedono aiuto a Platone come continua la storia Platone resta comunque all'accademia non parte di nuovo verso Siracusa la sua vita si ferma sei o sette anni dopo la stesura di questa lettera e la parte finale della propria vita Platone la passa tutta all'accademia addirittura lui aveva una piccola residenza vicino all'accademia nella parte finale della propria vita si fermava a dormire a scuola per avere più tempo da dedicare ai propri discepoli e quindi insomma non lascia più Atene veniamo alla centralità di questa lettera cioè noi ci dobbiamo chiedere come mai per noi oggi nell'ermeneutica platonica è così centrale questo testo ma innanzitutto ci permette di comprendere che il tema politico fu al centro dell'attenzione di Platone dall'inizio alla fine della sua vita ma non basta questo cioè non basta soltanto prendere atto del fatto che per Platone il problema della costruzione di una città giusta la Gallipolis fosse il tema centrale della sua speculazione e dunque da qua dobbiamo anche prendere atto del fatto che il problema agnosiologico o il problema enologico cioè il problema di che cosa sia la conoscenza di che cosa sia la verità e di che cosa sia l'uno sono problemi che scaturiscono dal problema politico quindi è vero che poi Platone è il fondatore della trascendenza è il fondatore del discorso dell'uno è il fondatore della teoria della conoscenza occidentale in certo qual modo è l'anticipatore della metafisica il fondatore della trascendenza indubbiamente ma arriva a queste conquiste filosofiche perché il suo fine primo e ultimo era andare a capire come si potesse addivenire ad un criterio unico e univoco di giustizia in grazia del quale avere una città ben governata quindi il suo problema era un problema politico dal problema politico scaturisce poi un problema agnoseologico che lo porta poi a dover affrontare un problema enologico cioè il problema dell'uno e di conseguenza lo porta a fondare l'idea di trascendenza però lui riflette su questi su queste questioni solo e soltanto perché il suo intento è capire come si possa divenire ad un criterio unico e univoco di giustizia che è la base sulla quale si può affondare una convivenza giusta e pacifica che è il problema nella sua vita che come vediamo è un problema politico e questa lettera conferma questa lettura lettura che però era possibile anche senza questa lettera se volessimo essere proprio precisi basterebbe dire che l'ultimo testo che Platone scrive in ordine cronologico di questo siamo certi sono le leggi che di nuovo è un testo di filosofia politica quindi pensare a un Platone nella prima parte della propria vita interessato alla politica e poi invece interessato alla matematica alla scienza alla filosofia è fuorviante perché altrimenti non avrebbe scritto passati i 67 anni non avrebbe scritto il politico e non avrebbe scritto a quasi 80 anni le leggi per essere precisi però la settima lettera conferma questa teoria e ancora di più ci permette anche di capire grazie ad una lettura attenta soprattutto di due concetti quello di Kairos e quello di Diuche ci permette di capire che Platone non volle rimanere confinato per sua scelta alla teoria politica cioè Platone non pensava che nella sua vita sarebbe rimasto sempre e soltanto un teorico della politica Platone aspettava l'occasione propizia cioè il Kairos per poter mettere in pratica la propria Kallipolis la propria bella città cioè lui non scrive un testo per descrivere una città ideale dove ideale è l'opposto di concreto realizzabile lui scrive delle opere e soprattutto discute all'interno dell'accademia per poter realizzare anche concretamente una città bella Kallipolis vuol dire città bella cioè lui non riesce poi a vedere concretizzata la propria politia quindi la propria costituzione perché gli è mancato il Kairos e questo lo si evince chiaramente leggendo la lettera settima che ci permette di sottrarre Platone a questa lettura veramente insomma un po' romantica idealizzata per cui Platone è questo primo grande pensatore utopista della storia chiuso in se stesso chiuso nella turise burnea dell'accademia a discettare della città giusta pensando egli però che fosse realizzabile ma non è così Platone pensava che fosse realizzabile come? semplicemente si rese conto del fatto che prima non aveva potuto avere l'occasione ad Atene di realizzare la propria idea di città e andò cercando altri posti in cui sperimentare la propria idea e i tre viaggi a Siracusa testimoniano proprio questo poi altro elemento come mai si dà tutta questa importanza in questa lettera settima a Siracusa e si fanno soltanto pochi cenni alla storia atenese ma questo è facile proprio come come dubbio a chiarirsi perché la lettera è indirizzata ad amici di Dione che sono siracusani quindi siccome lo chiamano a parlare della impostazione di Dione e gli chiedono consigli rispetto a che cosa fare a Siracusa lui di tutta la sua lunga esperienza di vita prende in considerazione fondamentalmente la parte della propria vita che aveva passata a Siracusa ecco perché è così centrale poi certo Platone passò la maggior parte della propria vita da Atene era atenese nasce da Atene e muore da Atene quindi questo è facile a spiegarsi all'interno di questo testo che comunque per essere una lettera è piuttosto lungo per essere diciamo così un racconto è molto breve sono una quindicina di pagine poi ognuno si fa il suo parametro e all'interno di questo testo Platone inserisce fra il racconto del secondo e il terzo viaggio a Siracusa la cosiddetta digressione filosofica che per noi è fondamentale perché richiama alcuni contenuti che poi saranno ripresi o che erano già stati trattati nel simposio nella Repubblica e nel Fedro in particolar modo per quanto partiamo dal Fedro anche qui si fa riferimento come nel mito di Teut raccontato nel Fedro al fatto che la filosofia non può essere scritta ma deve essere lasciata all'oralità e questa affermazione contenuta in modo ancora più esplicito all'interno della settima lettera permette di corroborare quella teoria che viene posta a partire dal testo aristotelico di Platone autore di dottrine non scritte cioè Platone avrebbe destinato al testo scritto soltanto alcuni aspetti del proprio pensiero non i più importanti mentre la parte più alta della propria filosofia quella che Aristotele avrebbe chiamato la filosofia prima viene lasciata soltanto all'oralità e al dialegestai e ne abbiamo conferma nella lettera settima quindi come vediamo questa lettera non è importante per noi soltanto da un punto di vista biografico ma anche da un punto di vista ermeneutico ci permette di comprendere meglio i testi platonici per chiarire che cosa sia la conoscenza Platone ne descrive alcuni gradini li descrive così li descrive qui così come li aveva descritti o rappresentati all'interno del mito nel sesto e nel settimo libro della repubblica nel sesto c'è la descrizione nel settimo c'è il mito della caverna e poi come ne aveva parlato nella penultima parte del simposio cioè nel discorso di di Otima quindi la settima lettera diventa fondamentale per comprendere queste altre tre opere e anche più in generale per quanto riguarda la repubblica anche qui c'è l'accenno assai operante all'interno di tutta la repubblica del necessario rapporto che deve sussistere fra filosofi e politici e soprattutto cioè fra governanti e filosofi allora io qua ho preso alcuni tratti salienti della lettera anche se il mio consiglio è leggerla per intero torno a ripetere sono una quindicina di pagine ho preso una traduzione online ne ho cambiato soltanto alcuni termini proprio laddove sentivo che la traduzione non rendeva bene dopodiché però seguiranno altri video un paio sono dedicati agli studenti di greco in cui riprendo questi testi li leggiamo in lingua originale li analizziamo li costruiamo facciamo una traduzione letterale e poi ne facciamo anche una traduzione filosofica bella piacevole all'orecchio insomma facciamo tutto quello che si deve fare su un testo greco per chi volesse me lo può scrivere nei commenti io posso mandargli la traduzione integrale della lettera torno a ripetere non è una traduzione integralmente mia ho giocato un po' in casa nel senso che ho preso una traduzione online in maniera tale che così era già scritta e l'ho semplicemente corretta dal mio punto di vista senza voler l'ho semplicemente attualizzata cercando di ho corretto quelle espressioni che secondo me non rendevano a dovere il testo greco ora in questo video che è destinato anche a chi non conosce il greco non mi perdo in discussioni come dire etimologiche o in discussioni sul lessico tutta la riflessione sul lessico la destino ad un prossimo video che è utile a chi conosce il greco questo non è per essere diciamo snob però se io adesso in questo che vuole essere un invito alla lettura di un testo mi metto a fare l'analisi del DNA dei termini platonici e su come andrebbero meglio tradotti insomma perdiamo tanto tempo però questo tipo di riflessione su come va tradotto un testo platonico secondo me va fatta perché girano delle traduzioni online che sono raccapriccianti e che soprattutto non sono traduzioni nel senso che non entrano nel testo non dimostrano che insomma il testo si è capito innanzitutto e per lo più come diceva Heidegger e quindi io qua come dire ho dato una limata una corretta e quindi bene o male vanno bene per chi però vuole invece una lettura del testo come va fatta cioè col testo alla mano ci vorranno però due tre lezioni due tre video ce l'andiamo a leggere per intero in greco e quindi torno a ripetere chi poi vuole la traduzione e ovviamente non vuole pure l'analisi la costruzione la traduzione letterale cioè tutto il materiale preparatorio non glielo do gli diamo invece soltanto poi alla fine la traduzione fatta bene che a questo punto è una traduzione fatta non perché io sia questo traduttore traduzione fatta bene attuale insomma una traduzione del ventunesimo secolo che però rispetta il dettato greco allora qua io come brani diciamo antologici ho scelto la parte più famosa che è la parte iniziale cioè subito dopo Platone subito dopo aver detto che lui aveva la stessa idea di cioè che poi sarebbe Dianoia che non è esattamente la stessa impostazione diciamo di Dione dice che potrebbe essere utile capire come è nata questa impostazione quindi va a raccontare come in lui è nata la passione politica e come lui si è spenta ad Atene ma è continuata ad essere operante nel resto del mondo greco da giovane mi ritrovai nella medesima condizione di molti altri pensavo non appena divenuto padrone di me stesso di volgermi all'attività politica avvennero nel frattempo alcuni bruschi mutamenti nella situazione politica della città qua Platone è reticente tutta la lettera è reticente ma in particolar modo in questa parte iniziale cioè lui non parla della guerra del Peloponneso i motivi possono essere tanti in un ultimo secondo me ricordandosi i cattivi rapporti che poi ne erano derivati fra Atene e Siracusa preferisce non citare la sconfitta e andare in media stress subito alla fine della guerra senza dire che la guerra era avvenuta quindi avvennero alcuni bruschi mutamenti nella situazione politica della città qua in realtà non è che avvennero per caso come torno a ripetere nelle condizioni di pace imposte da Sparta Atene doveva distruggere la democrazia e fondare un governo filo spartano e filo ricarchio il governo di allora sarebbe quello democratico attaccato da più parti passò in altre mani finendo in quelle di 51 uomini di cui 11 erano in città e 10 al Pireo ciascuno di questi aveva il compito di presiedere al mercato e aveva incarichi amministrativi ho tradotto al di sopra di tutti c'erano però 30 magistrati che erano dotati di pieni poteri quindi i 30 tiranni tra l'altro per chi volesse conoscere meglio da un punto di vista proprio teorico politico questa magistratura c'è il paragrafo 35 della politica di Aristotele che va più nello specifico caso volle che fra questi si trovassero alcuni miei parenti e conoscenti che non esitarono a invitarmi nel governo ritenendo questa un'esperienza adatta a me caso volle che questi i suoi conoscenti erano lo zio della mamma che era Crizia e Carmide quindi due dei più importanti esponenti di questo regime filo oligarchico e filo spartano che qua non è manco citato a Sparta erano proprio suoi parenti proprio familiari ecco considerata la mia giovane età non deve meravigliare il mio stato d'animo quindi lui qui dice che aveva delle speranze forti giustificabili ma lo dice il 73enne Platone giustificabili dalla sua giovanità dice ero inesperto era giovane vedevo tutto il mondo bianco o nero e quindi vista la mia giovanità non deve meravigliare il fatto che ero convinto che avrebbero portato la città lo stato qua non ho corretto lì non è lo stato e la città da una condizione di legalità ad una di giustizia e così prestai la massima attenzione al loro operato quindi lui era vicino da un punto di vista familiare era vicino da un punto di vista ideale a questo governo perché Platone è aristocratico Platone in tutta la vita rimane un aristocratico antidemocratico ok quindi per una serie di motivi in più era giovane quindi comunque era facile ad entusiasmarsi e tutto quanto sperava che questo governo avrebbe cambiato proprio completamente le sorti della città mi resi conto allora che in breve tempo questi individui riuscirono a far sembrare l'età del loro il periodo precedente quindi suona debacle e fra le altre sceleratezze di cui furono responsabili mandarono insieme ad altri il vecchio amico Socrate una persona che non ho dubbi a definire l'uomo più giusto di allora a rapire con la forza un certo cittadino al fine di sopprimerlo cioè di tante malefatte dei trenta tiranni che si potevano citare lui qui cita di nuovo un fatto che era stato raccontato anche nell'apologia di Socrate in un dialogo almeno di trent'anni prima per un fatto che secondo lui è proprio testimonia dell'ingiustizia connaturata a queste persone e fecero questo con l'intenzione di coinvolgerlo con le buone o con le cattive nelle loro rosche imprese ma Socrate si guardò bene dall'obbedire e deciso a esporsi a tutti i rischi pur di non farsi complice delle loro malefatte a vedere queste cose ed altre simili a questi di non minore gravità restai davvero disgustato e ritrassi lo sguardo dalle nefandezze di quei tempi poco dopo avvenne che il potere dei trenta crollasse e con esso tutto il loro sistema di governo quindi poco dopo lui qui di nuovo è reticente non dice che poco dopo ci fu questo nuovo colpo di stato organizzato da tra Sibulo e Anito che si imposero al governo della città di Atene restaurarono la democrazia ma benché all'inizio avessero promesso che sarebbero stati morigerati anche nelle vendette alla fine colpirono Socrate che era proprio l'unico contro il quale non avrebbero dovuto compiere nessun atto negativo quindi viene restaurata la democrazia che era comunque un governo nel quale lui non credeva però viste le malefatte dei trenta tiranni tutto sommato aveva qualche speranza meno di prima ma ancora qualche speranza c'era che a lui la politica piaceva proprio e dice infatti ed ecco di nuovo prendermi quella mia passione per la vita pubblica e politica questa volta però fu un desiderio più pagato anche in quel momento di confusione si verificarono molti episodi vergognosi ma non fa meraviglia che nelle rivoluzioni anche le vendette sui nemici siano molto più feroci tuttavia gli uomini che in quella circostanza tornarono al governo si comportarono con mitezza in realtà c'era stata una vera e propria amnistia avvenne però che alcuni potenti coinvolgessero in un processo quel nostro amico Socrate quindi nemmeno l'uscita Anito colui che aveva portato Socrate in tribunale accusandolo del più grave dei reati e tra l'altro di quello che meno di tutti si addiceva ad uno come Socrate insomma lo incriminarono per impietà lo ritennero colpevole e lo uccisero e pensare che proprio lui si era rifiutato di prendere parte all'arresto illegale di uno dei loro amici quando erano banditi dalla città e la malasorte li perseguitava di fronte a tali episodi a uomini si fatti che si occupavano di politica tali leggi e costumi quanto più col passare degli anni riflettevo tanto più mi sembrava difficile dedicarmi alla politica mantenendomi onesto quindi il suo non è un problema di fazione oligarchica o fazione democratica il suo è un problema di disonestà della persona politica cioè il suo è un problema di filosofia politica come si diventa giusti senza e prosegue senza uomini devoti e amici fidati non era possibile combinare nulla e d'altra parte non era per niente facile trovarne di disponibili dato che ormai la nostra città non era più retta secondo i costumi e il modo di vivere dei padri ed era impossibile acquisirne di nuovi nell'immediato cioè lui dice c'era stato un ennesimo colpo di stato le persone a cui io potevo sentirmi più affine da un punto di vista ideale cioè gli aristocratici erano andati in secondo piano gli aristocratici che invece si erano posti al governo erano stati disonesti coi democratici era successo anche il processo contro Socrate che le aveva fatti le aveva dimostrato che erano disonesti anche loro quindi c'era un problema proprio di giustizia nella politica infatti dice il testo delle leggi e anche i costumi andavano progressivamente corrompendosi ad un ritmo impressionante a tal punto che uno come me all'inizio pieno di entusiasmo per l'impegno nella politica cioè lui proprio voleva dedicarsi alla vita politica pieno di entusiasmo per l'impegno nella politica ora guardando ad essa e vedendola completamente allo sbando alla fine fu preso da nausea poi ho messo sta poco dopo ho messo questo breve riferimento ai re filosofi che come ho detto è un tema sul quale Platone torna profusamente all'interno della Repubblica cioè sulla necessità che i detentori del potere siano filosofi oppure che i filosofi riescano a porsi al potere della città in verità non smesi mai di tenere d'occhio la situazione quindi non smese mai di aspettare il momento favorevole per dedicarsi alla vita politica per vedere se si verificavano miglioramenti o in riguardo a questi specifici aspetti oppure nella vita pubblica nel suo complesso ma prima di impegnarmi concretamente attendevo sempre l'occasione propizia quindi il Kairos a un certo punto mi feci l'idea che tutte le città soggiacevano a un cattivo governo in quanto le loro leggi senza un intervento straordinario una buona dose di tiuche cioè di fortuna si trovavano in condizioni pressoché disperate quindi non è un Platone idealista è un Platone che sta benissimo che perché si possa dare buona politica ci serve una buona dose di fortuna quindi la tiuche e un'occasione favorevole un Kairos quindi è molto più concreto di quanto non lo si creda e in tal modo all'ode della buona filosofia fui costretto ad ammettere che solo da essa viene il criterio per discernere il giusto nel suo complesso sia a livello pubblico sia a livello privato i mali dunque non avrebbero mai lasciato l'umanità finché una generazione di filosofi veri e sinceri non fosse assurda alle somme cariche della città oppure finché la classe dominante nella città per un qualche intervento divino non si fosse stessa stessa votata alla filosofia poi ho messo una breve parte dell'escursus siamo alla parte finale della lettera l'escursus e la digressione filosofica mi piace questo brano perché in questo brano Platone parla della della passione filosofica e di come si instilla in un altro e secondo me è una sorta di rappresentazione portata alle estreme conseguenze della maieutica socratica e tra l'altro qui specifica anche come ho accennato nell'introduzione che non si dedicherà mai a mettere per iscritto la parte più alta della filosofia che va lasciata non all'oralità e basta ma al confronto dialogico e dialettico quindi a quello che in greco si chiama il dialegestai questo tuttavia io posso dire di tutti quelli che hanno scritto e scriveranno dicendo di conoscere ciò di cui io mi occupo per averlo sentito esporre o da me o da altri o per averlo scoperto essi stessi che non capiscono nulla a mio giudizio di queste cose su di esse non c'è né vi sarà alcun mio scritto qua veramente corrobora la teoria delle dottrine non scritte perché non è questa mia questa è bellissima sta frase perché non è questa mia una scienza come le altre cioè la filosofia non è una scienza come le altre essa non si vuole in alcun modo comunicare ma come fiamma si accende da fuoco che balza nasce d'improvviso nell'anima dopo un lungo periodo di discussioni sull'argomento e una sionusia cioè una vita vissuta in comune e poi si nutre di sé medesima questo tuttavia io so che se ne scrivessi o ne parlassi io stesso queste cose le direi così come nessun altro saprebbe e so anche che se fossero scritte male molto me ne affliggerei se invece credessi che si dovessero scrivere e rendere note e più in modo adeguato e si potessero comunicare che cosa avrei potuto fare di più bello nella mia vita che scrivere queste cose utilissime per gli uomini traendo alla luce per tutti la natura ma io non penso che tale occupazione come si dice sia giovevole a tutti giova soltanto a quei pochi che da soli dopo qualche indicazione possono progredire fino in fondo alla ricerca gli altri ne trarrebbero soltanto un ingiustificato disprezzo o una sciocca e superba presunzione quasi avessero appreso qualche cosa di magnifico ma di questo voglio parlare ancora più a lungo e forse dopo che avrò parlato qualcuna delle cose che dico riuscirà più chiara è infatti una ragione profonda che sconsiglia di scrivere anche su uno solo di questi argomenti ragione che ho già dichiarata più volte ma che mi sembra opportuno ripetere e qua ritorna sui concetti di nome definizione immagine e conoscenza dei quali aveva parlato sia nel cratilo per quanto riguarda il rapporto fra nome e oggetto ma poi invece per quanto riguarda la conoscenza sia nella Repubblica sia nei libri 6 e 7 sia nel discorso di Diotima nella penultima parte del simposio ciascuna delle cose che sono ha tre elementi attraverso i quali si perviene a conoscerla quarto è la conoscenza come quinto si deve porre l'oggetto in sé quindi l'oggetto conoscibile è veramente reale questi sono gli elementi il primo è il nome il secondo è la definizione il terzo è l'immagine e il quarto è la conoscenza se tu vuoi capire quello che dico prendi un esempio pensando che il ragionamento che vale per un caso vale per tutti quindi fa un esempio e dice adesso te lo spiego con il cerchio ma te lo potrei spiegare con una retta te lo potrei spiegare con un colore in ogni modo cerchio è una cosa che ha un nome è appunto questo nome che abbiamo ora pronunciato il secondo elemento è la sua definizione formata di nomi e di verbi quella figura quindi quando diciamo il cerchio c'è quella figura che ha tutti i punti estremi ugualmente distanti dal centro questa è la definizione di ciò che ha nome rotondo circolare cerchio se vogliamo circonferenza terzo è ciò che si disegna e si cancella che si costruisce al torno e che perisce cioè terzo è praticamente ogni rappresentazione che noi al mondo facciamo di un cerchio se per esempio lo disegniamo nella sabbia lo incidiamo sul vetro lo facciamo lo intagliamo cioè vari oggetti a forma di cerchio ci stiamo fino a qua nulla di tutto questo subisce il cerchio in sé al quale si riferiscono tutte queste cose perché questo è altro da esse cioè io faccio sempre questo esempio facciamo che io adesso al torno faccio un cerchio di vetro se io adesso prendo quel cerchio di vetro e lo butto per terra e si rompe l'oggetto che ho buttato per terra si è rotto ma l'idea di cerchio rimane ecco questo vuole dire Platone e però si è persa la riga nulla di tutto questo subisce il cerchio in sé al quale si riferiscono tutte queste cose così come se io lo chiamo cerchio o lo chiamo specchio o lo chiamo glass cambia niente quello rimane sempre cerchio perché esso è altro da esse e qua va la conoscenza quarto è la conoscenza l'intuizione e la retta opinione intorno a queste cose esse si devono considerare come un solo grado quindi conoscenza intuizione e retta opinione perché non risiedono né nelle voci né nelle figure corporee ma nelle anime cioè in chi pensa onde è evidente che la conoscenza è altra cosa dalla natura del cerchio cioè la conoscenza è propria del soggetto conoscente dice Platone e questo veramente ha dato tanto filo da torcere a tanti autori e poi è arrivato Heidegger che giustamente ha detto ma chi ha detto che il soggetto è nato con Cartesio guardate che il soggetto conoscente in effetti ha ragione Heidegger è nato già in Platone è evidente da questa piccola frase cioè lo dice proprio chiaramente la conoscenza è altra cosa dalla natura del cerchio cioè l'idea di cerchio rimane sempre uguale il conoscere il cerchio è un atto attivo del soggetto conoscente e dai tre elementi di cui ho già parlato quindi la conoscenza è propria del soggetto non diciamo ha a che fare con il nome la definizione e l'immagine ma non si compromette se cambiano il nome definizione immagine la intuizione di essere la più vicina al quinto per parentela e somiglianza le altre ne distano di più lo stesso vale per la figura diritta per la figura rotonda per i colori per il buono e per il bello per il giusto per ogni corpo costruito e naturale per il fuoco eccetera eccetera ora come vi accennavo durante questa lezione per chi vuole approfondire seguiranno diversi video con questi brani che abbiamo letto già in traduzione in cui andiamo a leggerli individuiamo i verbi poi facciamo come sempre l'analisi la costruzione una traduzione letterale e poi una traduzione più elegante dunque io ringrazio tutte e tutti per l'attenzione soprattutto chi è arrivato alla fine di questo video di introduzione alla lettera settima torno a ripetere chi volesse il testo nel suo complesso me lo può scrivere fra i commenti io glielo mando volentieri esorto chi non l'avesse ancora fatto ad effettuare l'iscrizione al canale così da non perdere le prossime pubblicazioni che saranno appunto da una parte relative alla letteratura e alla lingua greca per quanto riguarda la lettera settima invece per quanto riguarda la playlist di filosofia andrò a fare altre guide alla lettura in particolar modo del simposio dell'alcibia de primo che tra l'altro è utile anche per la didattica orientativa e poi in un paio di video almeno credo anche della della repubblica è impossibile fare la repubblica o come qualcuno dice della costituzione in in un solo video dunque io ringrazio di nuovo tutte e tutti per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video